La maxitruffa è stata sventata dalla Guardia di Finanza di Napoli che ha sequestrato, grazie a un provvedimento d'urgenza emesso dalla Procura di Napoli Nord, crediti per 93 milioni di euro, accumulati nei cassetti fiscali con il cosiddetto super bonus edilizio. Dai accertamenti dei finanzieri di fratta maggiore è emerso che i crediti, riconducibili a sette società indagate e praticamente fittizi, erano stati acquisiti attraverso lavori ed dili come riqualificazione energetica e ristrutturazioni e adeguamenti sismici mai eseguiti. Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario dopo l'avvio delle negoziazioni dei crediti avvenute tra gli scorsi mesi di marzo e aprile, ceduti e emerso anche da quattro persone risultate decedute. In alcuni casi i fantomatici lavori edili risultano anche superiori al milione di euro, anche se riguardanti una singola abitazione. L'operazione di oggi fa seguito a quella che tra il 2022 e il 2023 ha consentito di sventare una maxitruffa con il sequestro crediti fittizi per un miliardo e mezzo di euro relativi ai lavori di ristrutturazione e efficientamento energetico. Grazie.